Cosa fate? La patata alessa. E' una bua. Eh? Bua. Avete capito i Ferragni, che fortunati, hanno anche la sala cinema già presa d'assalto ovviamente dai bimbi. Questa è Chiara Ferragni che non riesce a farsi un massaggio in santa pace perché Paloma la tira dappertutto. Eccolo qua il nostro Edo. Allora, cosa fa questo weekend Edo? Ecco i genitori in Franciacorta, ospite da Villa Biondelli, tutto ovviamente in ADV, beati loro. Francesca Ferragni gli ha dato un orologino, forse il suo primo, non sappiamo. Per me è molto l'attitudine o da chitarrista Edo, però anche da, non lo so, da piccolo tecnico, ingegnere, perché è qua che se lo guarda, se lo studia l'orologino, ecco se lo mette sull'orecchio. E' un, non lo so, un mini accessorio che fa incuriosire questo bimbo, veramente è riflessivo di solito Edo. E eccolo qua, sempre Franciacorta e ultime slide con Chiara Ferragni e Paloma. Bene, ciao!